Ciao, io sono Gianluca Gazzoli e nella vita faccio cose. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli e faccio cose, tra cui essere... La moto oggi per me è quel mezzo che mi permette di restare da solo, però quando sono in moto riesco a essere davvero con me stesso. Devo dire che l'ultimo tratto che abbiamo fatto per arrivare qui su è una delle cose più belle che abbia mai fatto con la moto. Sono un biker spartano e lo si vince anche da soltanto che in questo momento ho tantissimo freddo. Registrando ancora, quando arriva quella pelliccia gigante che avevo ordinato per poter coprirci...